Oh zio mi dai la password del wifi? Non uso il wifi io. Come no? Così ci vai su internet bro? C'ho il 4G di Vodafone. È il 4G? È il 4G. E cos'è il 4G? Il 4G è quello più veloce del 3G? Il gangsta. È più veloce, basta quanto è veloce. Tipo da qui a lì. Hai visto? È già tornata l'informazione. Sì ho capito ma quanto spendi fra? Spendo poco e dura un sacco. Tipo? Tipo che per un mese sono a posto, anzi mi avanza pure. Allora va bene.